Grazie per essere presenti qui, perché da pochi giorni, da tre giorni, ho sentito questo nuovo incarico che il caso della Polizia ha voluto investire. Sono stato sempre attento alle esigenze di comunicazione, perché vi tengo che i rapporti con la stampa vanno col privati, perché la stampa ha anche una funzione sociale per quello che riguarda i rapporti con le istituzioni. Molte volte, e in varie occasioni, quando io ho diretto a Confissariati, anche di primo piano, come a Scampi, oppure in Calabria, la stampa ci è stata sempre vicina. Molte volte le esigenze di comunicazione erano dettate da situazioni, molte volte, incontriggibili, e la stampa ci è stata vicina e ci ha dato una mano, perché voi sapete che anche il messaggio lanciato dalle istituzioni attraverso la stampa ha una valenza di rilevo, certamente. Ecco perché io sono sempre stato attento ai rapporti con voi e mi fa piacere che oggi siete in maniera pubblica presenti nella gestura di Salerno. Non so se voi volete fare qualche domanda, mi farebbe piacere iniziare a non fare un monologo, ma iniziare a dialogare con voi, perché penso che dal dialogo possono nascere cose un po' più, diciamo, un po' più interessanti. Ecco, anche se voi volete orientare. Questo è diciamo, la presenza. Un attimo, chiedendo. Prego, prego, la presenza. Si parla ultimamente che l'arte criminalità è che a Salerno non c'è postimata una città piuttosto tranquilla, certamente, comparata a determinati territori ai quali lei ha fatto menzione evocati, quali scampi a Napoli, il paragone a Oreste. In ogni caso ci sono ultimamente dei risori abbastanza criminali che non fanno 2.000 sogni tranquilli ai cittadini. Lei così pensa un attimino dalle primi battute del suo insediamento di dare una svolta a quanto è stato fatto finora o di potenziare un determinato tipo di sicurezza sul territorio per garantire una maggiore capacità ai cittadini? Adesso vi sono iniziato da qualche giorno. Cercherò, già ho fatto la prima riunione con i funzionari, farò una riunione a carattere operativo dei prossimi giorni. Quindi il giudizio di cui lei mi chiedeva va necessariamente rinviato. Però posso già dire in linea di massimo che l'impegno sul territorio della Polizia di Stato sarà un impegno incisivo perché io ritengo fondamentale che il controllo del territorio perché l'azione di Polizia passa necessariamente attraverso la prevenzione perché è inutile poi che ci chiediamo addosso quando succede il delicto, l'omicidio, la rapina. Noi dobbiamo cercare di prevenire i reati. Io sono un fondamentale assertore della prevenzione come anche sono un fondamentale assertore delle misure di prevenzione che hanno una valenza diversa rispetto all'attività di controllo del territorio perché il controllo del territorio è un momento di prevenzione sul territorio quindi possiamo garantire che necessariamente non avvengono i delitti. Mentre invece le misure di prevenzione accedono a situazioni di pericolosità sociale in capo a determinati soggetti. La misura di prevenzione però serve a richiamare, a tirare le orecchie, a pregiudicare gli delinquenti e a cercare di portarli nell'albero della legalità. Molte volte ci si riesce e tante altre volte la misura di prevenzione non ha un effetto sottifo. Quindi dicevo, rispetto alla sua domanda di allarme e criminalità, l'allarme e criminalità si risolve con una buona prevenzione. Io ieri ho avuto un incontro con il capo della polizia e questo incontro è stato messo anche sul tavolo con l'attività di prevenzione sul territorio ma a livello di tutta la regione campana perché è un incontro di tutti questi giorni quindi ritengo che la sinergia tra le volanti della questura e questo rischio di controllo del territorio coordinato tra noi Carabinieri e la Guardia di Finanza debba essere rafforzato. Ci deve essere sempre una sinergia con tutte le forze dell'ordine. In più io chiederò al Dipartimento della Pubblica Sicurezza di far intervenire il reparto prevenzione crimine che nel passato c'è anche stato però per impegni su Napoli, che voi sapete bene la situazione di Napoli negli ultimi tempi, gli omicidi a Ponticei, io direi che il Comissario di Ponticei quindi conosco bene la realtà napoletana sotto il profilo criminale tra Scambia, Ponticei, i quartieri spagnoli, quindi per queste questioni che sono connesse a questi ultimi recenti fatti ovviamente il reparto sta avendo un impegno forte sul mare, cercherò di portare una parte del reparto prevenzione crimine anche a Salerno perché vada a innestarsi in questo reticolo di cui il reparto sarà un soggetto, sarà attore insieme alle volanti, insieme ai carattini della Guardia di Finanza. Oltre a tutti il reparto prevenzione crimine a Campania l'ho diretto nel 1999 per due anni, quindi è un reparto che funziona bene, quindi sono anche i miei ex uomini quindi capiranno bene quello che io voglio quando poi verranno qui e quindi rafforzare questo reticolo che è fondamentale per rispondere alla sua domanda e per cercare di limitare i danni, limitare le azioni criminali. Una buona polizia si fa attraverso un'attività di prevenzione, la vera polizia si fa attraverso un'attività di prevenzione. Quando si arriva alla repressione vuol dire che l'attività di prevenzione ha avuto qualche defiance e quindi bisogna poi imporre e ripare con l'attività dell'indagine, la squadra mobile, tutti gli organi investigativi e quindi poi andare poi subendo la competenza della probabilità poliziaria. Per la parte nostra invece come quest'ora io darò una svolta decisiva nell'applicazione delle misure di prevenzione a visi orali e per la sensazione di sorveglianze speciali in misure patrimoniali che ritengo fondamentale e questo lo dico, bisogna rendere presente la camorra. Questo è il segnale, il messaggio, bisogna rendere presente l'organizzazione criminale perché la forza delle organizzazioni criminali oggi, che qual è la forza? È questo, è il denaro, è la potenza economica, che loro stiano al paraduro bis, stiano in carcere, a loro poco importa, a loro importa che avrestendo un'organizzazione continua a vivere e come può vivere un'organizzazione criminale se non attraverso la ricerca di ricchezze, di investimenti in circuiti leciti, di riempievo di capitali e quindi noi dobbiamo agire su questo versante. Cosa che ho fatto in Calabria quando erano in Calabria, io ero dirigente del commissariato e quindi ho le proposte dal fessore di Reggio Calabria sul versante della lotta all'endrine calabrese, all'endrine della piana di Gira Tauro. Quindi è fondamentale questa cosa, quindi attività di controllo del territorio, misure di prevenzione sono i due pilastri su cui si fonderà la mia azione in maniera principale. Ovviamente non dobbiamo disegnare le attività di indagine, le attività investigative che fanno poi capo alla squadra mobile ma comunque fanno capo all'autorità giudiziaria sotto la cui egida noi poi operiamo. Gli organi investire di ricopero. La costituzione di Salerno ha molto decente una sollecitazione da parte del governatore della Regine Campania che continua a dire, ho fatto anche due giorni fa, ci sono le prostituzioni nascoste. Ho soltanto di fare un giro, da tutte le ore d'autunque perché è l'ora in cui accedono queste, c'è la presenza di queste signore, di queste donne, farò un giro. Sì, mi è stato riferito che c'è questo problema della prostituzione, ovviamente Salerno come tutte le altre città soffre di questa, soffre in maniera, non so se identica o meno, della presenza di questo fenomeno. Io posso dire che, su un versante sicurezza, rispetto alle città che ho visto nel mio percorsi capire, era una città relativamente tranquilla rispetto a quella facendo dei paragoni. Ovviamente io mi devo calare nella realtà e due giorni sono proprio previ. Perciò ho detto anche prima che il giudizio va necessariamente riviato per non rincontrare, poi per vedere qualcosa di più. Ripeto, se al fenomeno di Costituzione sono legati anche dei fenomeni criminali di una certa virulenza, certamente sarà uno dei fenomeni che saranno attenzionati indipendentemente dalle sollecitazioni. Noi dobbiamo garantire la sicurezza pubblica, quindi il primo verso del questore si deve spendere tutto questo versante, ma il questore con il prefetto in sede di comitato con le altre forze dell'ordine, perché qua è un problema di sicurezza pubblica, un problema di prevenzione di sicurezza medica, la cui strategia aspetto al comitato provinciale. Noi dobbiamo agire con il prefetto in sede di comitato provinciale delineare le linee strategiche di intervento sul territorio, perché questo è un intervento che non può fare solo la polizia di sede. Dobbiamo in considerazione cercando di spenderci nel migliore dei conti possibili, cercando di, non dico di depellare proprio la prostituzione, però il ciclo di azioni crescite che vengono a formarsi intorno alla prostituzione, come dicevo prima, in funzione e esfruttamento della prostituzione. E poi ci sono questi casi di omicidi, adesso ripeto, mi prendendo un po' alla sprovvista, si, ho saputo, però non so solo lo stato dei tagli, probabilmente c'è anche un esempio di strutturio che fa comunque rispettato. Ripeto, noi lavoreremo sul... ...ho avuto un'ottima impressione, perché io vengo proprio da una città e comunque ho avuto un percorso di capire anche in città dove c'era una virulenza di fenomeni criminali, come la Calabria, come per esempio in alcuni quartieri dove ho lavorato a Napoli, Scampia, quartieri spagnoli, Fonticelli, in provincia ho lavorato a Giuliano, in Fragola, quindi diciamo come prima impressione, impressione abbastanza positiva, però ovviamente non vanno sottovalutati i fenomeni che se sottovalutati potrebbero poi avere una virulenza, potrebbero avere un'incissilità sul territorio preoccupante. Ecco, quindi io dico, non bisogna mai abbassare la guardia, mai dire che un territorio è tranquillo inizialmente, bisogna comunque valutare con criticità i fatti, le vicende che accadono nel territorio e eventualmente porre rimedio con un'azione di contrasto o un'azione di prevenzione efficiente. Lei diceva appunto che i pilastri saranno controllo del territorio e prevenzione. Sì, i pilastri della mia azione saranno soprattutto quelli perché il controllo del territorio è fondamentale, perché un buon controllo del territorio consente una efficace prevenzione, quindi efficace prevenzione che consente che cosa? La percezione di sicurezza sicuramente. Io credo che il cittadino ha bisogno di avere la percezione della sicurezza. È importante per esempio che lo studente possa andare a scuola tranquillamente, la massaia possa uscire di casa a fare la spesa, il cittadino comune possa andare al lavoro e noi dobbiamo garantire l'ordinato svolgimento della vita quotidiana di ogni cittadino. Questo è un compito che spetta fondamentalmente a tutte le forze dell'ordine e quindi anche alla Polizia di Stato, di cui oggi ho l'onore di guidarla qui in questa provincia. Pronto anche a chiedere rinforzi se dovesse essere necessario? Ma i rinforzi servono perché, ripeto, secondo me è fondamentale che ci sia questo reticolo, questa collaborazione tra tutte le forze dell'ordine. Nell'ambito della Polizia di Stato ritengo fondamentale innestare le pattuglie del reparto prevenzione crimine con le volanti sul territorio in maniera tale da creare una sinergia più efficace a prevenire o contrastare eventuali fenomeni delinquenziali. C'è l'aspetto della Costituzione. Sì, anche quello è fondamentale come aspetto. Non va sottaciuto, diciamo che almeno mi è stato riferito, ripeto, sono da pochi giorni, che c'è questo fenomeno che probabilmente è un fenomeno un po' comune in ogni città, in ogni regione. Ripeto, la prostituzione sarà considerata, al pari di altre situazioni, sarà considerata e valutata, quindi sarà oggetto di attenti controlli da parte delle forze dell'ordine. Sicuramente se ne parlerà anche in comitato provinciale con il prefetto e cercheremo di adottare una linea strategica di intervento che possa essere efficace. Ovviamente, come ho detto prima, vanno colpiti i fenomeni delinquenziali che circondano, che comunque sono i reati di delitti di scopo, cioè i reati che vanno a costruire la prostituzione, che nascono intorno alla prostituzione, quale il favoreggiamento, l'induzione e lo sfruttamento della prostituzione. Cioè noi dobbiamo cercare di recidere questi legami perché le organizzazioni criminali che pongono come loro scopo lo sfruttamento delle donne vanno comunque combattute, vanno comunque dembellate sul territorio.